Ciao ragazzi, allora ho appena consegnato Raisa e Karak, che sono due cuccioloni che li ho portati qua in Basilicata, li ho consegnati a Giovanni che hanno un'azienda di allevamento sui Nicolo e fanno produzione di salami, salumi. Tipici della zona. E loro mi hanno contattato, la femmine è già operativa, adesso su qualcuno che non conosce, e hanno subito un furto importante e adesso si sono attrezzati sia di telecamere, sia con questi due cuccioloni che cresceranno in questa azienda, avevano molto spazio, e poi hanno anche i due o tre meticci che li abbineranno, ovviamente li ho già fatti conoscere, ma sono ancora un po' diffidenti, ma non c'è stato problema, gli abbiamo dato da mangiare, Giovanni vai pure lì vicino, era solo per farvi vedere che anche quando i cani hanno più di un anno, non è che si dimostrano, ovviamente non sono ancora fabili, ma possono essere gestiti senza problemi dal nuovo proprietario, adesso li abbiamo dato da mangiare. Va bene, era così per farvi vedere dove sono venuti Raisa e Karak.